A un certo punto ho creduto di poter essere io il granello di sabbia nell'ingranaggio. Il ribelle nel ventre ancora fecondo della bestia, soldato scelto nella fanteria del Global Marketing Place. Dicevo, non si può dirottare un aereo senza salirci a bordo, bisogna cambiare le cose dall'interno, come sosteneva Gramsci. Gramsci fa più chic di Trotsky, ma raccomanda lo stesso entrismo. Avrei potuto citare Tony Blair o Daniel Combendee. Questo mi aiutava a compiere lo sporco lavoro. Dopotutto i sessantottini hanno iniziato con la rivoluzione e sono passati alla pubblicità. Io volevo fare il contrario. Questa è una piccola parte del libro di Frédéric Begdeber, intitolato Lire 26900. In realtà il titolo ovviamente è una traduzione, neanche poi tanto felice, del libro scritto da Begdeber, che in francese è 99 franchi. Anche 99 franchi non è una traduzione secondo me eccezionale. Non è una traduzione, non è un'intuizione eccezionale. Tuttavia esprime e non è un caso che sia stato pubblicato nel 2001 o comunque scritto a cavallo tra il 2000 e il 2001 e pubblicato nel 2001 e il 2002 in Francia e in Europa. Non è un caso appunto che sia uscito proprio in quel momento preciso. Infatti è uno dei pochi libri, forse dalle prime caratteristiche, dalle prime cose che mi ha colpito da lettore naturalmente, è uno dei pochi libri in cui c'è la doppia valuta, c'è la conversione in ogni situazione che viene raccontata. Quindi c'è il franco e c'è l'euro e non è un caso che questo avvenga. Secondo me Begbeder ha scritto un libro eccezionale, Feltrinelli in questo periodo lo sta ritirando parecchio e probabilmente perché il nostro sta pensando forse a qualcosa di grosso, di nuovo, di importante che starà per uscire probabilmente prima in Francia. In ogni caso è un libro, secondo me, lucidissimo e allucinato allo stesso modo, nel senso che Begbeder racconta la storia, che è la sua storia, di Octave Palancò, che è un pubblicitario, un numero uno della più importante agenzia americana in Francia di pubblicità, che ad un certo punto, gramscianamente, come dice lui stesso, vuole distruggere dall'interno il sistema del quale si trova ad essere un importante ingranaggio. Il protagonista guadagna due milioni di euro all'anno, quindi non lo nasconde ed è forse anche questo che gli dà la possibilità di iniziare a distruggere tutto dall'interno. Il protagonista, l'alter ego, appunto, questo Octave, scrive tutto questo libro nei ritagli di tempo del suo momento di maggiore declino dal punto di vista professionale. Nel momento in cui lui non ci crede più, nel momento in cui vuole distruggere tutto, inizia a scrivere questo romanzo. In realtà è anche una storia, è una storia molto molto forte e nel momento in cui tenta e inizia la sua avventura di appunto di farsi licenziare, come dice gli stesso, Octave, il protagonista, è all'apice proprio della sua tossicodipendenza da cocaina. È una persona che molla la propria donna nel momento in cui gli viene comunicato appunto che presto diventerà padre. È una persona che inizia a perdere tutto in questo momento, in questo momento appunto del racconto. La cosa interessante è che a un certo punto lui arriva all'apice anche dal punto di vista professionale, ha delle intuizioni, pur nel suo momento allucinato, nelle quali riesce a farsi valere dal punto di vista non solo nazionale. E ovviamente la conclusione è tutta da leggere. Forse nell'ultima parte, nell'ultimo capitolo, assolutamente delirante per quanto lucidissimo, c'è insomma un po' da pensare, può anche non essere d'accordo il lettore su certe trovate, proprio nell'ultima parte. Però dall'inizio al 90% della scrittura è davvero un delirio di onnipotenza, dell'impossibilità di controllare lo spot, la pubblicità, il mercato e tutta la follia che vi gira intorno. Secondo me è un libro bellissimo che merita di essere riletto. Grazie a tutti.